Sono Raffaella, di Roma, Italia. Io ho fatto volontariato presso un centro di accoglienza per richiedenti asilo della provincia di Roma, gestito dalla cooperativa Isola Verde. Ho incontrato e fatto colloqui con circa 30 persone che mi hanno aiutato a ricostruire la loro carriera di studi e di lavoro, di esperienze di lavoro, fino al loro arrivo in Italia. La motivazione anche ad attivarsi per loro, guarda caso, è un punto cruciale della loro vita attuale. Come più o meno lo era per noi senior, no? Ho imparato che bisogna attivarsi e riattivarsi insieme ad altri in esperienze strutturate. Dà una forte carica motivazionale e allarga la rete e quindi crea molte opportunità. Se non avessi partecipato al Senior Plus non avrei avuto la possibilità di conoscere da vicino questa realtà dei richiedenti asilo. E come esperienza in generale non avrei potuto per esempio scoprire che dovevo ricalibrare e ripensare a come mi presento, come presento le mie professionalità, le mie capacità e abilità. Mi è stato utile, mi ha fatto capire che per esempio mi presentavo in una maniera troppo noiosa, no? Mentre invece senza che fosse un consiglio esplicito ha stimolato il confronto con gli altri e con il nostro trainer, il nostro facilitatore, mi ha stimolato a riflettere sul fatto che invece devo essere più smart. Grazie a tutti.